condizioni. Allora, sicuramente quello che ho vissuto io, quello che ho visto io, è un'Ucraina compatta. Le persone, appunto sia uomini che donne, credono nella resistenza, credono nell'esercito ucraino. Spesso si diceva, no? Gli ucraini credono in due cose, in Dio e nell'esercito. Ed effettivamente così abbiamo, quello che ho visto, è proprio un esercito delle difese territoriali, quindi dei volontari che si esercitano fuori Kiev, proprio per, quelli che ho visto io fuori Kiev, per rispondere a una potenziale invasione. Credo che resisteranno perché sanno che hanno un presidente che magari prima era apprezzato fino a un certo punto, che è diventato un eroe nazionale e non c'è niente come un nemico comune che unisce. E me, gli eroi nascono così, nella prova dei fatti.